Prima di passare a un nuovo esercizio sulle particles, vorrei spendere altre due parole su questo sistema per la creazione di nuvole. Come vedete in questa scena abbiamo tre geometrie alle quali è stato applicato il sistema di cui vi ho parlato precedentemente. Abbiamo una camera che ha un target fisso su una nuvola e questa camera si muove in 125 frame operando in questa maniera. Naturalmente il movimento è molto semplice e sicuramente è anche molto semplice la sua realizzazione. Abbiamo un setup di luci composto da una luce ohmmi, con un'influenza grande quanto l'intera scena, è uno spot il quale ha comunque i parametri riportati nei video precedenti. A livello di rendering, in render setup, stiamo utilizzando skyline e la cosa migliore quando si utilizza skyline per avere un effetto sicuramente migliore anche visivo è quello di sia renderizzare tramite i render elements, ma in questo caso per questo semplice esempio non è stato effettuato. E sia alla voce renderer attivare il motion blur. In skyline è attivabile anche sulla geometria, anzi è necessario attivarlo sulla geometria, basta selezionare le nostre geometrie e quindi anche le particles, tasto destro, object properties e alla voce motion blur attivare enable, in questo caso possiamo attivare tranquillamente tramite immagine, ok? Infatti verifichiamo che sulle particles sia attivo e una volta renderizzato tramite ram player che vi ricordo in 3ds Max si trova sotto la voce rendering, compare it media in ram player, possiamo caricare la sequenza naturalmente con il giusto frame rate per avere un riscontro più verosimile, quindi rendiamola più che possiamo, poiché abbiamo renderizzato 1280x720, clicchiamo play e otterremo questo esempio. Come notate l'aspetto interessante è che ora non si muovono in maniera molto molto veloce ma è molto fluido il movimento e quindi sembreranno molto veritiere, non avremo comunque dei contorni molto molto rigidi sopra le nostre nuvole. Volendo in post produzione si può andare a lavorare anche ulteriormente, nel senso potremo lavorare sull'opacità delle nuvole stesse, quindi renderizzarle anche 3 separatamente con il canale alfa per avere la possibilità di andare a rendere più visibile o meno una determinata nuvola rispetto, un determinato elemento rispetto all'altro e potremo anche andare ad aggiungere degli effetti come ad esempio la sfocatura o il motion blur controllarlo direttamente tramite canale del velocity. All'interno sempre di programmi di post produzione come ad esempio After Effects, Aeon Digital Fusion o The Foundry Nuke, probabilmente dipende da quello che utilizzate e quello che sicuramente vi rimane più semplice.